e avente ad oggetto sforamento dei valori limite giornalieri di PM10 e PM2,5 in provincia di Avellino. Concedo la parola al consigliere Ciampi che ha la facoltà di illustrazione per un minuto. Prego collega. Presidente, assessore, buongiorno. Come ha detto... L'interrogazione ad oggetto è una materia incandescente per quanto riguarda il territorio della provincia di Avellino e la città di Avellino, cioè la qualità dell'aria, l'inquinamento dell'aria e in particolare gli sforamenti dei valori limite giornalieri da PM10 e PM2,5. È solo il caso di ricordare che nello scorso fine settimana nel territorio della provincia di Avellino si sono registrati livelli di concentrazione delle polveri PM10 e PM2,5 superiore ai limiti di legge. Potrebbe sembrare un fatto sporadico, un fatto che è successo solo adesso. In realtà questa problematica della qualità dell'aria e dell'inquinamento è un problema che attanaglia la provincia di Avellino e la città di Avellino da un po' di tempo. Infatti voglio ricordare che nell'anno 2020 ci sono stati ben 79 sforamenti e Avellino risulta al settimo posto in Italia e primo nelle regioni del centro-sud. E la situazione nel 2021 non è assolutamente migliorata. Infatti per l'annualità in corso l'ARPAC ha rilevato una media di 40 sforamenti tra le centraline di Avellino, 53 presso lo stir di Piano d'Ardine e 21 a Solofra. Quindi la situazione appare effettivamente critica. Prendo atto che l'ARPAC è consapevole di questa situazione. Infatti di pochi giorni fa la decisione di installare altre due centraline, due laboratori mobili. Una nell'area PIP località Leone a Montoro e l'altra in via Principe a Medeo a Solofra. La situazione pertanto richiede un intervento probabilmente anche in via emergenziale, anche se non è un'emergenza perché è una situazione che si è andata consolidando negli anni. Quindi con questa interrogazione chiedo all'Aggiunta che misure voglia mettere in campo soprattutto in funzione delle proprie competenze di controllo e pianificazione integrata finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente. Grazie. Grazie consigliere. Concedo la parola all'assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola per una risposta di tre minuti. Prego assessore. Sì, grazie. Il tema può essere diviso in due aspetti. Come riuscire a potenziare la conoscenza del fenomeno e cioè il monitoraggio, valutando i siti dove avviene lo sforamento dei minimi, la valutazione di quante volte avviene questo sforamento su base anno e quindi un quadro diagnostico puntuale. La seconda questione riguarda che facciamo, quali misure intendiamo assumere per contrastare questo fenomeno conoscendone meglio le cause e le origini. In ordine all'interrogazione gli uffici hanno risposto una nota che io poi darò anche in forma cartacea all'interrogante per non appesantire la mia risposta. Sintetizzo le parti salienti. La Regione Campania ha stipulato un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente in data 11 febbraio 2021 per superare una procedura di infrazione, la 2014-2147 sapete che l'Unione Europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sul tema dell'inquinamento atmosferico. Contemporaneamente l'amministrazione regionale sta programmando con ulteriori risorse di concerto con il Ministero dell'Ambiente incentivi per la dismissione o il filtraggio di cammini a uso domestico per l'acquisto di stupe a tecnologia con basso impatto emissivo in quanto sulla scorta di studi mirati effettuati dall'ARPAC nel periodo del lockdown si è verificato che l'alta presenza di PM10 rilevata in specifica area del territorio tra cui anche quello avellinese è dovuta in prevalenza, questa è la valutazione che fanno i tecnici, non è una valutazione ovviamente mia, all'utilizzo dei cammini alla combustione della legna per riscaldamento d'uso domestico e alla stupe alimentata a biomassa. Naturalmente non è questa l'unica ragione ma viene attribuita una particolare rilevanza a questa componente. Naturalmente tali incentivi saranno accumulabili con quelli già previsti per le tipologie finanziabili sul conto termico. Sul tema dell'interrogazione l'ARPAC ha confermato che tra il 30 e il 31 ottobre si sono verificati gli sforamenti al limite giornaliero di 50 microgrammi a metro cubo da non superare più di 35 giorni durante l'anno solare. Quindi c'è la doppia valutazione, c'è lo sforamento giornaliero e il cumulo degli sforamenti in base annua. Ha precisato che il riferimento per la valutazione della qualità dell'area è rappresentato dalla rete di monitoraggio regionale gestita dall'ARPAC stessa e costituita da strumenti in misura certificati. Pertanto i dati acquisiti da Aura e richiamati dal consigliere rappresentano un ausilio scientifico ma non possono essere una base di partenza ufficiale per la valutazione della qualità dell'area. In ordine all'inquinamento da polveri sottini nell'area avellinese, l'ARPAC ha comunicato che negli ultimi anni è stato superato il limite di legge per quanto riguarda i giorni con valori superiori a 50 microgrammi metro cubo mentre non è stato superato quello delle medie annue. Ha evidenziato che le principali fondi di emissioni di polveri sottili sono i riscaldamenti domestici, il traffico veicolare e gli abbruciamenti. Nuovamente diffusi dopo la scadenza del 20 settembre 2021 del relativo divieto regionale è che le condizioni meteoambientali e la morfologia favoriscono il ristagno di inquinanti in caso di alta pressione e inversione termica. Ha fornito un quadro aggiornato in cui sono riportati nell'ordine per le stazioni di monitoraggio della qualità dell'area di Avellino e di Solofra nel periodo 1 gennaio-1 novembre 2021 il numero di giorni cui il valore medio giornaliero della concentrazione di PM10 ha superato il limite di 50. in buona sostanza risulta un attento monitoraggio operato da Alpac sulla qualità dell'area in provincia di Avellino assicurata da una rete di rilevatori certificata e senza decreto legislativo 155-2010. Al contempo le rilevazioni effettuate e i campioni prelevati hanno individuato l'eventuale fondo di emissioni di polveri sottili in quelle che si riscontrano in ogni territorio antropizzato riscaldamenti domessi traffico veicolare combustione della legna per riscaldamento stufe alimentate a biomassa e anche a bruciamenti naturalmente tutto questo quando siamo in presenza di condizioni meteoclimatiche particolarmente critiche tende ad essere accentuato. Poi vi sono una serie di informazioni su una serie di attività magari l'invio al testo scritto perché le iniziative riguardano gli incentivi per il rinnovo del parco automobilistico già previsti nella legge regionale 3 agosto 2020 numero 36 in particolare c'è un programma molto importante proprio oggi pomeriggio una riunione col direttore generale che riguarda l'aggiornamento dei sistemi di riscaldamento domestico con camini attenuta e forni chiusi camini chiusi per limitare le emissioni in atmosfera generate dal riscaldamento domestico. Naturalmente poi bisognerà organizzare un sistema di incentivazione noi pensiamo a un modello un poco e chiudo su questo un poco sisma bonus e co bonus cioè creare un meccanismo virtuoso in base al quale non il singolo titolare dell'unità immobiliare che sarebbe complicato ma attivare una rete di operatori di artigiani insomma di persone che professionalmente si occupano di questo che diventano i mandatari del proprietario dell'unità immobiliare che svolgono la pratica presso lo sportello preposto per accedere a questi incentivi questo in linea di massima è il lavoro che stiamo svolgendo e naturalmente forse è preferibile che io mi firmi qui e lei possa attingere al testo scritto una serie di informazioni che appesantiscono e mi fanno sporare in questo caso il limite di tempo che mi è stato assegnato grazie è analogo a quel progetto pilota di cui abbiamo parlato su Pugliano? sì sì questo è analogo al progetto su cui il presidente Cianambino anche ha chiesto delle iniziative oggi abbiamo un incontro perché l'altra area dell'area metropolitana diciamo napoletana interessata a queste cose è l'area compresa tra i comuni di San Vitaliano Nola e Pomigliano quindi è un perimetro particolarmente sensibile anche lì perché vi sono condizioni orografiche particolari che determinano un ristagno a volte delle polveri quindi è un insieme di situazioni quindi stiamo muovendoci su più fronti è chiaro che mai come in questo caso abbiamo dei dati oggettivi per partire non possiamo partire da 1.300.000 ettari o da 550 comuni qual è diciamo il perimetro dimensionale e demografico della nostra regione però abbiamo i dati per enucleare delle situazioni di particolare criticità e partire con dei progetti pilota mirati poi si estende man mano anche ad altre realtà grazie Assessore concedo la parola al collega Ciampi per una replica di due minuti prego consigliere ringrazio l'Assessore per la risposta e prendo atto di quanto affermato riservandomi chiaramente di attingere al testo scritto a cui fa riferimento l'Assessore in questa sede mi preme soltanto sottolineare che l'argomento è importante è grave e mi permetto soltanto di sollecitare di non perdere tempo e di adottare quando prima le misure le misure necessarie certo l'idea del progetto pilota è un'idea positiva però in questa fase è importante procedere celermente grazie grazie consigliere allora passiamo all'ultima interrogazione di questa giornata di question time ciao a tutti